Benvenuti o bentornati, questo weekend ci sono stati mondiali, è stato veramente un evento favoloso quest'anno addirittura c'è stato pure un momento veramente emozionante da parte di un concorrente e niente, spero che vi abbiate potuto vederlo anche col coverage in italiano fatto da Simone Achiera Trimarchi, Jack Torrens, Luca Magne e Marco Camilluzzi spero che vi siate divertiti e spero che sia stato anche uno streaming all'altezza ma penso di sì, io ho guardato degli sprazzi, sono sincero avevo qualche tornino da giocare, avevo anche delle faccende da sistemare non l'ho seguito interamente, chiaramente però, cavolo i pezzi che ho visto erano di una qualità veramente alta mai vista credo per il coverage in italiano quindi complimenti, complimenti ancora a Simone Achiera Trimarchi questo è il video dove voglio far vedere, secondo me, i momenti salienti di questo mondiale secondo me ce ne sono stati parecchi e soprattutto il primo che vi farò vedere è quello che io penso sia la parte più importante di questo torneo detto ciò... mancano ancora... ma... ma... immaginare il mio evento è confermato e vi dirò anche i partner dell'evento, piano piano, vi spoilerò tutto questo weekend, perché probabilmente vedrete il video martedì, quindi sarà... sarò a Bologna a fare 4 seasons, faccio sia Modern Legacy e quindi spero di beccarvi se mi beccate, disturbatevi pure, anche quando faccio i video, tra... mi fa piacere e adesso andiamo a vedere il primo... il primo... il... il primo e secondo me il... l'highlight più importante di questo torneo bene, su questo ci tenevo un sacco perché Yuta Takahashi, che è anche... vabbè, spoiler alert il vincitore dei mondiali di quest'anno è un giocatore che gioca veramente da sempre gioca... dal 99, fatto il primo pro tour ha vinto 3 Grand Prix, non ha mai vinto nessun pro tour non ha mai fatto top 8 un pro tour e... su... su Twitter si chiama Vendillion e... lui è anche uno... uno che fa vedere le carte, no? lui c'ha anche le carte, lui è... figa, c'è il Black Lotus beta fa vedere anche spesso... a parte tutte le sue robe in giapponese che capi... non possiamo capire guardate anche... c'ha anche le foil... le foil giuste e niente, lui ha avuto questo momento veramente... secondo me è... emozionante e me è... io veramente mi sono anche io un po' emozionato per lui perché... cazzo, da 0-3 a 7... a fare 7-3 quindi alloccarsi il posto in top 4 inoltre... caspita... questo fa vedere che... a parte il fatto che il solito discorso questo è solo un giochino e tutto culo eccetera... vabbè... questo... non stiamo neanche a discuterne ehm... per un... vi spiego una cosa... per un giapponese... in generale... è... è... è una cosa molto rara mostrare... mostrarsi... ehm... in... le emozioni in maniera così forte quindi... dovete capire... secondo me... la preparazione che ha avuto la passione che ha questo... questo ragazzo per il gioco e... soprattutto l'impegno che ha messo per questo torneo e quanto ci teneva a far bene perché probabilmente è stata la sua prima... ehm... primo result a un torneo major perché quest'anno ha fatto... ha fatto in modo di qualificarsi ai tuoi mondiali, no? tra i 16 candidati... e... secondo me... è bello... godiamoci il momento e... secondo me questo qua è stato il momento veramente più emozionante di tutti i mondiali anche se non avesse vinto... per me è... è stato il vittore... il vincitore morale veramente morale anche di fatto di questi mondiali 2021 e... avrà... beh... i soldi sono soldi ma... avrà sicuramente la sua carta l'anno prossimo disegnarà una carta con la sua faccia quindi... sono... sono veramente contento ehm... ti sei... ha vinto anche un pezzo di immortalità se ci pensate quindi... andiamo... andiamo a seconda parte 3-10-0... Yuta Takahashi è il tuo mondo il secondo momento è sempre lui che vince finalmente i mondiali e... oh mio... non lo crede... 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 ha vinto... è il tuo mondo e anche se avete notato ha fatto una smaneta smontia quando hanno capito... il che avrebbe vinto è stato veramente... un giocatore supersportivo a concedergliela 3-10-0... Yuta Takahashi è il tuo mondo è stato un momento veramente... emozionante secondo me... è... di Yuta... Takahashi, campione del mondo 2021 Andiamo al terzo Adesso basta con i lacrimoni Andiamo a vedere un po' di gameplay Allora, questo Ve lo ingrandisco perché l'ho preso da Twitter Ci saranno anche le clippettine in giro E vorrei farvi notare il board Siamo Straski contro Depra Siamo nel lower bracket Della top 4 Quindi Chi dei due perde è fuori Guardate il board gigante Depra Ha in campo Un inkeeper, una magda Due di quelli lì, due petti, due tre Che pompano e danno rapidità E lupo E niente Ci sono un po' di trigger di ranger class E qua Straski deve sculare Perché ha 4, c'ha il drago flippato Quindi il drago potrà sicuramente fare Divide by zero Imbalzerà un pezzo in mano Drago sparerà due danni E quindi adesso Vi ricordo che divide by zero Oltre all'effetto di fare Rimbalzare in mano una magia O Qualcosa che è in campo Un permanente costo uno in più in campo Fa anche learn Ma learn non solo Fa prendere una carta con lesson decide Può fare anche pesco scarto Scarto pesco E quindi qua Deve cercare di Diciamo Luttare il suo deck E cercarsi la risposta Per almeno sparare altri due pezzi Se no Ha perso la partita Guardiamo Divide by zero Toglie chiaramente il pezzo che fa più danno Sparerà due Penso a Magda Attenzione E invece Il target è il 2-2 Perché vuole Vuole topdeckare qualcosa E niente E pesca Spikefield Hazard Che era l'unica risposta che aveva Nel mazzo per ribaltare E guardate Depra che sta Impazzendo Poverino Così facendo Prende solo un danno E questa è la più grande sculata Di tutto questo mondiale Guardate come se la ride Guardate come se la ride Straski E niente Il commento anche della wizard Bellissimo Sometimes you play to win And sometimes you play to stay alive E quasi Questa è la più grande sculata Di questo torneo Bellissimo 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 Guardiamo anche gli highlights Secondo wizards Questi erano i draft Le previsioni dei draft Lo faccio riascoltare No se state pensando male Siete delle brutte persone Palesemente detto che il suo mazzo Non è a quanto pare forte E se avete pensato male Siete veramente delle cattive persone Questa è una grande Anche qua Una grande top deckata Da parte di Jan Merkel Ai danni di Matt Sperling Praticamente ha Ha top deckato Al Rund Epifani Che probabilmente Era la sua unica vittoria Perché l'altro L'ha in mano tutto E il prossimo turno Avrebbe sicuramente vinto E doveva solo Top deckare quello Per poterlo copiare E fare appunto Al Rund Epifani Sentiamo l'urlo A me piacerebbe un sacco Essere commentato Da lui Che mi fa Veramente spaccare Io ho millato Tre terre Da Arne Hush and Beth E niente E l'ha Ha mandato in screw E guardalo Guardo che faccia Ah questa è di nuovo La situazione Di prima Di Di Strask Che fa Learn Bam Che comunque A parte La sculata Avete notato Che comunque Era veramente L'unica giocata giusta Sparare due danni Alla creatura 2-3 Per minimizzare Il danno Più possibile Così facendo Che comunque La sculata Se l'ha costruita Quanti di noi Avrebbero fatto Questa giocata Quanti di noi Secondo me Comunque sia Per quanto Ha sculato Perché ha sculato E nulla Nulla da ridire Però cazzo Secondo me Questo è proprio Sintomo Che comunque Le sculate Devi meritartele E devi costruirtele Beh chiaramente È l'urlo Di È l'urlo Finale Di Yuta Takashi E niente Ragazzi Questi erano A mio parere I momenti salienti Di questi mondiali È stato Veramente un bel torneo In quanto A parte iniziale C'è stato Pro del draft E probabilmente Farò anche L'analisi Dei pick Di uno Di quei pro lì Perché secondo me C'è molto Da imparare E Soprattutto Poi Oh È stato Veramente un bel torneo Hanno capito Che un draft In locale Si può fare E spero Che lo facciano fare Prima o poi Anche in client A noi Magari con un codicino Da mettere Così Ti locchi Fai la tua stanza Con i tuoi Sette amici E vi fate Un draft Ci facciamo un draft Tutti insieme Detto ciò Veramente Questi mondiali Non li ho vissuti Così tanto Ma li ho sentiti Perché Da quando ho visto Quel video di Utah Che urla Ietta Niente Mi sono emozionato E comunque Ho voluto comunque Seguire la top 4 Che Oh Comunque Magic Di altissimo livello Sì Sono arrivato in top 4 4 mazzi Con il blu A quanto pare Effettivamente Alleround Epiphany Sembra una carta Veramente dominante E lo è Perché Gli effetti Time walk Gli effetti Turno extra Non dovrebbero esistere In standard Infatti Probabilmente Non ne vedremo più Ma La vera carta Che dà solidità A quegli architipi Lì È sicuramente Expressive iteration Una carta Che veramente Alla sua efficienza Dà una solidità Da un 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 Lungo Un piano A lungo termine Su tanti tornei A questi mazzi UR based Che effettivamente Eccola lì La vera carta Probabilmente La vera carta Decisiva Di quel mazzo lì Non penso La domanda che si fanno tutti È Banneranno qualcosa? A mio parere No Anche perché Comunque Nel torneo A parte questa top 4 qua Il mazzo che ha performato meglio Comunque Nel weekend Oltre che nei mondiali A SCG È stato Mono white Perché Mono white Preda sia IZ IZ tempo Che IZ Che Mono G E E anche il nuovo Bianco blu Tempo È un mazzo Veramente valido Comunque IZ deck Vanno giocati bene Perché sono mazze Estremamente difficili E E niente Secondo me Non bannano niente Faccio un piccolo Appunto Non polemico Ma Vorrei che sia Anche da Motivazione Motivazionale Dai diciamo Chiamare il ban È una cosa facile Perché È comodo E Secondo me Impigrisce un po' La community Ma me in primis Perché Noi ci lamentiamo Di una carta La bannano E allora lì Dobbiamo In realtà La maggior parte della community Aspetta che gli stessi Pro Facciano altri mazzi Lo standard Storicamente È sempre stato corto di deck Perché lo standard Ha poche carte Ed essendo poche carte Ci saranno sempre Dei mazzi più forti Che tendenzialmente Sono tre Massimo tre a quattro Ed è così Questa è la legge Dello standard Ogni formato Ha le sue regole E lo standard Ha come regola Il fatto che Non possono esserci Mille tir Uno Perché è impossibile I set sono pochi Soprattutto post rotazione Perché sono ancora di meno Perché ruotano fuori Quattro set E ne entra solo uno Detto ciò Fra un mese Esce anche Crimson Wolf Quindi altre 200 carte E quindi anche lì Meta Probabilmente Si riconfermerà O ribalterà Il risultato E quindi Secondo me Bisogna Lo standard è bello Ha la bellezza Che se Si studia E se Si è bravi Si può sempre Costruire L'antideck Per vincere il torneo Vi faccio un esempio Durante il periodo di Fires Quando doveva essere bannato Un po' prima Prima di Agent of Treachery Prima di Lucca Era Fires Era comunque tier 1 Cosa hanno fatto i pro? Si sono inventati Simic Flash Che batteva Fires al 100% Quindi comunque C'è modo di inventarsi Le cose E E niente Cioè secondo me Bisogna impegnarsi Non bisogna lamentarsi E basta E Quindi C'è sempre una via d'uscita Ci sono dei casi Un po' estremi Io non sono mai d'accordo Con i bann Anche perché poi Lo standard Tendenzialmente Il set dopo Esce Comunque i mazzi cambiano Eccetera Quindi Bisogna lavorarci su Adesso un po' dominante Trovate il mazzo Che vi preda Non esiste Un meta Dove C'è un mazzo Troppo più forte Pochissime volte È stato così E quella volta lì C'è stato un intervento Ma tendenzialmente Sono i pro stessi Che lo dicono Addirittura Sono i pro stessi Che giocano Quei mazzi lì E ci vincono Che dicono Che quella roba lì È sbagliata Tendenzialmente così Quindi In questo caso Non c'è Questa casistica Quindi aspettiamo Il prossimo set Almeno per dire qualcosa Detto ciò Vi ringrazio Per avermi seguito Fino a qua Questo weekend Come ho detto prima Sarò a Bologna Fare 4Saison Fare Modern E Legacy Spero di beccarvi E di farvi un saluto Ciao Ciao